buongiorno a tutti allora 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 felpettina da brrrr che freddo che fa in effetti fa freddo sono uscito a fare una commissione veloce veloce da leccarsi le orecchie non vedevo l'ora di tornare a casa perché comunque felpettina da brrrr che freddo che fa perché dobbiamo parlare dello slalom speciale maschile di adel boden una gara ragazzi una gara pazzesca 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 ma partiamo subito con la prima manche che come dicevo è stata pazzesca perché i primi dieci sono in 44 centesimi e ci sono strain e feller al comando a pari merito tenete conto che al quattordicesimo posto ci sono a 62 centesimi 62 centesimi sono quattordicesimi a pari merito e non ho segnato chi sono comunque ci sono due i quattordicesimi sono a 62 centesimi non ho scritto chi sono lo scopriremo durante la gara e il trentesimo che era un chat invece è a 1 e 37 a 1 e 37 il trentesimo il che vuol dire che anche lui lui potrebbe puntare al podio perché un secondo e 37 in uno slalom si può fare ci sono stati i recuperi credo 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 che da quando c'è la regola dei primi 30 che è un distacco così piccolino piccino picciò tra il primo e il trentesimo non sia mai successo però bisognerebbe andare a vedere e non mi sembra il caso di andare a caccia quindi una seconda manche tutta da vedere tenendo conto anche che i tre galletti del pollaio cioè i più forti fosso leval noel e jacobsen non hanno terminato la loro prima manche con fosso leval che si è mangiato tutte e due le mani anche quelle dei anche i piedi perché stava facendo una gara stratosferica se avesse finito la gara dava non dico un secondo a tutti ma più di mezzo secondo a tutti sicuramente perché al terzo intermedio aveva un secondo di vantaggio centesimo più centesimo meno purtroppo nelle ultime porte ha inforcato ed è finito tra l'altro anche contro la balaustra dell'arrivo la balaulile il coso che segnala l'arco chiamiamolo l'arco che segnala l'arrivo e quindi con fuori loro tre chiunque chiunque può vincere ma andiamo a vedere gli italiani cosa hanno combinato perché abbiamo razzoli che è nono bravo bravo bravissimo a 36 centesimi quindi vista anche lui il podio grossa è ventitresimo a 93 centesimi rendetemi conto il ventitresimo è a 93 centesimi di solito a 93 centesimi c'è esagerando il decimo poi dipende da che tipo di gara ci sono gare in cui a 93 centesimi c'è il terzo il quarto il quinto però non al ventitresimo posto al ventitresimo posto il ventitresimo a 93 centesimi sala e ventiquattresimo a 98 centesimi e vinazzer è ventottesimo a un secondo e 29 quindi tutti possono recuperare come possono peggiorare ma andiamo a vedere com'è la classifica della prima manche nello slano maschile via del boden perché come vi dicevo abbiamo strain e feller al primo posto a pari merito herni è terzo a 5 secondi christophersen è quarto pinturo è quinto zenosen è sesto il gigante buono è tornato strolls è settimo di gruber è ottavo razzoli è nono e sfarsa decimo come dicevamo gli altri italiani ventitresimo gross ventiquattresimo sala e ventottesimo vinazzer detto questo andiamo a vedere come è andato lo slano speciale e la seconda manche il primo a scendere rochard trentesimo dopo la prima manche vediamo cosa combinerà e se riuscirà a recuperare qualche posizione purtroppo commette un grave errore ma in ogni caso termina la gara con il tempo di 1 51 e 42 che gli consentiranno sicuramente di prendere dei punticini che non è che fanno schifo calcolando che magari qualcuno cade qualcuno magari fa peggio di lui eccetera eccetera magari nei 25 potrebbe riuscire anche ad entrare tocca a raschner vantaggio di 5 centesimi 5 centesimi di per raschner e 29esimo dopo la prima manche lo sciatore austriaco si prende il primo posto con relativa facilità ma per soli 28 centesimi doveva fare molto meglio se puntava a recuperare qualche posizione visto e considerato il grave errore che è costato circa un secondino al a roschard raschner comunque gli passa davanti tocca al nostro binazzer vinta al vantaggio di 3 centesimi sullo sciatore austriaco io lo mangio io binazzer me lo mangio me lo mangio a colazione proprio perché non è possibile che lui sta facendo una gara da paura stava mettendo aveva 70 centesimi di vantaggio al terzo intermedio e poi deve fare la cagata che probabilmente ti costerà parecchio in ogni caso è davanti qua per 43 centesimi ma poteva stare davanti per 70 80 centesimi sullo sciatore austriaco vedremo 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 speriamo che non si dobbia mangiare anche lui le mani come però se non altro ha finito la gara qualche posizione sicuramente la recupera ma potevano essere anche di più tocca a sala 24esimo dopo la prima masce 31 centesimi di vantaggio sul suo compagno di squadra e con nazionale ahimè è soltanto quarta un secondo e 09 signori miei questa è l'ennesima conferma che binazzer senza quell'errore lì già così sta facendo una gara libidine che ha già recuperato un botto di posizioni ma senza quell'errore botto qualche posizioncella l'ha recuperata ma senza quell'errore lì tocca al nostro gross provare a battere il suo compagno di squadra 36 centesimi di vantaggio e 23esimo dopo la prima masce ahimè anche lui paga la legge del binazzer è soltanto quarto con meno 84 centesimi di ritardo in ogni caso sia per sala che per gross punticini sicuri che arrivano tocca a mellard 19esimo dopo la prima masce vantaggio di 49 centesimi sullo sciatore italiano è qui e si vede che quell'errore lì lo paghi perché il buon mellard zitto zitto cacchio cacchio si mette davanti al nostro sciatore per soli 6 centesimi 6 centesimi senza quell'errore lì sarebbe finito dietro tranquillamente e invece il binazzer l'ha fatto eh ha fatto punto non aggiungiamo altro e l'unque mellard tac gli passa davanti per 6 centesimi in ogni caso ne mancano 18 entra nei 20 tranquillamente sono 8 posizioni già recuperati dal buon binazzer la classifica dopo la discesa degli sciatori tra il trentesimo dalla trentesima alla sedicesima posizione quindi i primi 15 i secondi 15 della classifica ma i primi 15 a scendere vede mellard al primo posto binazzer per ora mantiene la seconda posizione il che vuol dire che male che vada ha recuperato 11 posizioni winters è terzo nef è quarto zucce c'è quinto rachner è sesto russia è settimo koroshilov è ottavo il nostro grosso è nono quindi male che vada sarà ventiquattresimo e mantiene più o meno la posizione che aveva colega è diecimo e il nostro sala è undicesimo quindi 11 e 15 fa 26 perde un paio di posizioni ma è andata ancora abbastanza bene tocca a strasser quattordicesimo dopo la prima manche vantaggio di 18 centesimi tenendo conto che era a pari merito con simonè erano tutti e due al quattordicesimo posto per quello non è il quindicesimo che parte ma il quattordicesimo perché sono i due al quattordicesimo posto una buona gara del del boslilus si prende il primo posto incrementa a 31 centesimi il suo vantaggio e visto i distacchi minimi zitto zitto cacchio cacchio potrebbe anche riuscire a entrare nei dieci ma lo scopriremo subito perché adesso tocca a simonè che ha fatto lo stesso tempo nella prima manche del buon Lidu Strasser provare a fare meglio di lui nella gara secca perché sono alla pari purtroppo sbaglia proprio sul terzo intermedio inforcando in maniera abbastanza clamorosa anche se era in luce rossa per più di mezzo secondo quindi difficilmente sarebbe riuscito a stare davanti a Strasser e probabilmente difficilmente sarebbe riuscito a stare davanti anche agli altri due quindi magari in ogni caso il nostro Vinaz avrebbe recuperato un'altra posizioncella che recupera lo stesso perché simonè ha inforcato toccare di tredicesimo dopo la prima manche vantaggio di soli 4 centesimi sullo sciatore tedesco purtroppo anche lui inforca più però dopo il primo intermedio in cui aveva tra l'altro ancora 4 centesimi di vantaggio quindi aveva mantenuto il vantaggio che aveva all'inizio però era solo il primo intermedio non potremo mai sapere cosa avrebbe combinato dopo e zitto zitto cacchio cacchio Vinaz continua a recuperare adesso tocca al nostro Giuliano Nerazzoli nono dopo la prima manche vantaggio di 26 centesimi sullo sciatore tedesco vedete distacchi veramente minimi purtroppo è solo quinto a 46 centesimi di ritardo e quindi è pure dietro al nostro Vinaz che a questo punto signori miei è nono male che vada sarà nono mentre il buon Giuliano rischia di uscire dai 10 tredicesimo ad andar male comunque la classifica dopo che sono scesi quasi tutti e mancano i migliori 8 vede l'Illus Strasser al primo posto Meliardo e secondo Vinaz la terza ha già recuperato 17 posizioni Iule è quarto Razzoli è quinto quindi mantiene la quinta posizione Messi e per forza era sceso prima il tredicesimo lo stesso quinto Razzoli sesto Winter settimo Sfarz ottavo Neff nono Braten e decimo Zubcic tocca a Stroll settimo dopo la prima manche vantaggio di 45 centesimi sullo sciatore tedesco alla fine riesce a scalzare il germanico e si prende al primo posto con 29 centesimi di vantaggio quindi per ora l'Austria batte la Germania quindi vedremo come andrà perché adesso tocca a Pinturo quinto dopo la prima manche vantaggio di soli 6 centesimini sullo sciatore austriaco purtroppo scivola dopo il secondo intermedio che era in luce rossa ma di soli 11 centesimi quindi tenendo conto che signori miei si parla di Pinturo nella seconda parte di gara avrebbe potuto anche ripassare davanti e invece scivolato saltato una porta ha salutato la gara tocca a Erni terzo dopo la prima manche 12 centesimi di vantaggio sullo sciatore austriaco purtroppo è solo quarto con soli si fa per dire 58 centesimi di ritardo e adesso signori miei è sfida tutta austriaca perché adesso tocca Pazzerello Feller primo dopo la prima manche con 17 centesimi sul suo connazionale e ahimè anche Pazzerello Feller si deve arrendere a Strolz con 17 centesimi di ritardo quindi è doppietta austriaca ma potrebbe anche essere tripletta perché adesso tocca a Strain che ha lo stesso tempo di Feller dopo la prima manche e signori miei 17 centesimi di vantaggio su Feller su Strolz brutto 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 quando succede ma incredibile in forca dopo il secondo intermedio che era in luce rossa di 21 centesimi e quindi è solo doppietta austriaca e il buon Lillustrasser felice e contento è terzo ma andiamo a vedere la classifica finale di questo incredibile slalom speciale maschile che vede Strolz al primo posto Feller è secondo Strasser è terzo Zenausen è quarto Aerni è quinto Beillard è sesto Winazzer è settimo e recupera ben 21 posizioni Iule ottavo Razzoli è nono quindi mantiene il nono posto che aveva nella prima manche e Winters è decimo per quanto riguarda gli altri Gross è ventesimo ventesimo Gross quindi recupera qualche posizioncina e ventiduesimo Sala che recupera anche lui qualche posizioncina detto questo ragazzoli io vi saluto vi ringrazio una gara devo dire pazzesca e tutti lì vicini vicini incredibile ma vero alla fine ha vinto quello che nella prima manche era settimo questa è dimostrazione che nello sci la prima manche conta fino a un certo punto poi la seconda manche può succedere veramente di tutto anzi adesso vi stoppo e faccio una piccola un piccolo excursus diciamo tra prima e seconda manche un po' che non lo faccio e vediamo la differenza e non lo volevo fare ma vista la gara folle eccetera eccetera andiamo a vedere perché nella prima manche come vi ho spiegato prima c'erano straine e feller al primo posto aerni era terzo christophersen era quarto pinturo era quinto zenosa era sesto stroll era settimo di gruber era ottavo razzoli era nono e sfalza era decimo la classifica finale vede stroll al primo posto era settimo ed è diventato primo feller è secondo era primo a pari merito è secondo quindi può anche dargli bene visto che era prima a pari merito strasser è terzo e strasser addirittura era fuori dai dieci zenosa è quarto era sesto recupera due posizioni aerni è quinto era terzo diventa quinto bayhard era sesto ha recuperato 12 posizioni no ha recuperato un botto di posizioni anche lui se non erano recuperate 12 12 o 13 miliardi di nasser è settimo ne ha recuperate ben 21 iule ottavo ha recuperato un botto di posizioni anche lui razzoli nono è rimasto nono è l'unico che è rimasto dove era e winter sedecima ha recuperato un botto di posizioni anche lui come vedete si è ribaltata completamente la classifica tra il primo e il secondo intermedio tra il primo e la prima e la seconda masche scusate e di quelli che c'erano nei primi dieci nella prima masche abbiamo solo feller chiunge i sogni e regala sogni detto questo ci vediamo alla prossima ciao ciao